Rami fa l'equilibrista vai andale vai vediamo vediamo oh 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 sei quasi all'arrivo non puoi cadere adesso eccoci ecco cado in arrampicata oh oh arrampicata arrampicata gira l'uculette attenzione brava ecco hai indovinato come si fa ok e adesso discesa in verità penso che sia stato da qui si partiva o no 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 secondo me si si no perché guarda davanti alto quello vedi che pure l'altra bambina dai 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 vai vai oh oh devo saltare là come i cagnolini vai uno due tre ok ti ho detto come i cagnolini oh Dio oh oh tre quattro no oh oh ricomincia da capo aiuto oh 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 Grazie.